Buongiorno a tutti, bene? Match valido per il titolo italiano WTKA Nel momento anche dell'inno nazionale andiamo infatti gli atleti al centro con i rispettivi trainer momento dell'inno nazionale italiano Prego e tutto il pubblico dei piedi sui spalti, grazie! Grazie a tutti Francesco Saborito, Giovanni Antonino Conorelli, Vincenzo Marziano in questo momento sul ring per questo titolo italiano WTKA i nostri atleti in questo momento pronti a dare il via a questo match che sa tutto di tricolore un match che sicuramente ci proietta a mettere quello che è il mondo di Opsagon le selezioni provvedranno alle finali disputarsi proprio il 3 settembre in attore di Roma ma intanto titolo italiano per noi il suo ringe in questo momento il nostro direttore di gara Angelo Paglio a dirigere gli atleti così come vediamo i due ragazzi rispettivamente provenienti dal team russo per quanto riguarda l'angolo rosso dal team celesti per quanto riguarda l'angolo blu ultimi istanti in preparazione per poi dare il via ai 3 round composti da tre minuti ciascuno tutto è pronto vediamo qui al centro accolti dal nostro direttore di gara Angelo Paglio per l'occasione direttamente dal team orche esattamente a Torino a onorare questo ring all'interno di questo meraviglioso anfiteatro di San Giovanni da punta atleti al centro tutto è pronto così come anche il tempo ci siamo per il primo round tra Condorelli Marziano vai Doni 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 bravo i ragazzi bravo 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 Ora, dai! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Andiamo ai ragazzi in questo momento agli angoli. Fuori in secondi. Secondo round, signori, attenzione per questo titolo trecolore. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.